Oggi, stando anche a recenti revisioni pubblicate su prestigiose riviste internazionali, non possiamo affermare che esiste un trattamento di provata efficacia con studi rigorosi per la malattia da Covid-19. Ci sono tante sperimentazioni in corso, alcune più rigorose, altre meno rigorose, ma soprattutto, come giustamente diceva lei, ci sono tanti trattamenti che vengono sperimentati in loco senza protocolli rigorosi e sappiamo bene che in assenza di bracci di controllo, quindi di pazienti che vengono trattati casualmente con terapie alternative piuttosto che con placebo, è sostanzialmente impossibile attribuire a quella terapia un'efficacia con modalità rigorose. Quindi io a oggi sarei abbastanza prudente ad affermare che ci sono terapie che funzionano per tutti, ci sono sperimentazioni autorizzate dall'AIFA che sono in corso, ci sono studi su casisti che stanno dando dei risultati, ma su cui rigore metodologico ovviamente è molto difficile tirare una riga di adeguatezza e correttezza, per cui a oggi noi non abbiamo sicuramente un trattamento che possiamo dire è efficace per tutti i pazienti con questa patologia.